Un pomeriggio al circo. Quando i miei figli, Giulia e Paolo, frequentavano le elementari, avevano in testa una gran confusione, non capivano che lavoro faceva il padre. Spesso li invitavo con la mamma o con la tata sul set e cercavo di spiegare loro cosa significa fare l'attore, il regista e che ruoli avevano tutte le persone che mi circondavano e lavoravano con me. C'era uno stupore incerto sui loro volti. Restavano perplessi vedendomi interpretare un carattere che non riconoscevano. Mentre giravo una performance comica non ridevano, dovevo sembrare loro un pazzo che si trasformava in un altro pazzo. Vedevano molti cartoni animati e per loro il cinema non di animazione era ancora tutto da scoprire. Ma possibile che non riesco mai a far ridere sti ragazzini? Mi chiedevo sempre. Per me era diventato un cruccio. Ma alla svolta avvenne un sabato, durante le feste natalizie, quando mio padre Mario mi invitò insieme ai miei figli ad uno spettacolo pomeridiano del Circo di Liana Orfei. Mio padre è stato anche uno storico del circo e in generale dei giochi circensi, dall'antica Roma fino alla metà del Novecento. Una passione che esaldò la sua amicizia con Federico Fellini. Quel pomeriggio era la prima volta che Paolo e Giulia entravano in un circo e grande era per loro l'attesa, il desiderio di vedere le tigri a pochi metri. Liana Orfei ci aveva riservato i primi posti davanti alla pista e i miei figli erano eccitati, ma anche un po' spaventati. Temevano, ci dissero, che gli animali potessero abbattere le alte barriere e arrivare fino a loro. Li tranquillizzammo, almeno al momento, con un sacchetto di popcorn gigante. Si spengono le luci e un riflettore occhio di bue accompagna l'ingresso di Liana Orfei, che a volte in un sontuoso vestito luccicante saluta cordialmente il pubblico. Prima di annunciare il primo numero si rivolge a noi. Un saluto e un ringraziamento speciale va a un grande studioso e storico sostenitore del mondo del circo, Mario Verdone. Il pubblico applaude, con rispetto. Liana Orfei prosegue, ed è per noi un grande onore avere qui questo pomeriggio anche il figlio del professor Verdone, con i suoi due bambini, il grande Carlo Verdone. Un bel applauso. Scatta un'ovazione. Io mi alzo per ringraziare il pubblico, mandando baci a destra e a sinistra. Giulia e Paolo mi fissano stupefatti. Giulia mi fa. Ma come fanno a conoscerti tutti? Giulia, è perché faccio l'attore, l'attore comico che fa ridere al cinema e al cinema ci va tanta gente. E Paolo, però non fai ridere tantissimo, sei strano quando fai l'attore e fai più ridere a casa quando sei tu. Taglio corto, basta, un giorno andremo al cinema e vi faccio vedere come la gente ride per papà. Voi non avete ancora capito che lavoro faccio. Ora silenzio, godiamoci lo spettacolo. Trapezisti, giocoglieri, clown, tigri, cavalli si alternano a un ritmo festoso scandito dalle note dell'orchestra che suona dal vivo accanto alla pista. Ma per me e papà il vero spettacolo sono loro, Paolo e Giulia, incantati, a bocca aperta davanti a tutto quello che vedono. Liano Orfei annuncia l'ingresso degli elefanti che disciplinatamente si dispongono in perfetta geometria tutti intorno alla pista. Uno di loro è a dieci metri da noi. Giulia e Paolo, terrorizzati, trovano riparo dietro le mie spalle. Gli elefanti fanno diversi numeri incredibili e alla fine escono di scena con un inchino alla platea. Ma Liano Orfei blocca l'ultimo elefante dicendogli, lo sai che sei stato un po' educato. Ti è venuto a vedere un grande attore e tu che sei un suo collega non l'hai salutato e ringraziato come si deve. E poi, rivolgendosi verso di noi, Carlo, alza un braccio così Simba viene a scusarsi. Noi quattro ci guardiamo atterriti. Mika ci manderà l'elefante addosso. Alzo il braccio con scarsa convinzione. Eliano Orfei, con una canna, indica all'elefante di avvicinarsi a noi. Vai, vai, e mi raccomando, un bel saluto al nostro Carlo. Il pubblico applaude, noi no, perché è impressionante vedere un pachiderma che lentamente ti punta se non sai bene cosa in mente di fare. Giulia e Paolo, agghiacciati, ci pregano di mandarlo via. L'elefante posa una zampa sul muretto dell'arena. Mio padre e i miei figli fuggono. Io, per non offendere Eliano Orfei, resto incredibilmente al mio posto, pronto però a darmi la gambe, appena il bestione supera la barriera. Alcuni spettatori si alzano, spinti dalla paura e corrono verso l'uscita. Gli altri si godono lo spettacolo del terrore stampato sulla mia faccia. Eliano Orfei urla. Forza, saluta Carlo! L'elefante alza lo zampone, arriccia la proboscide e fa partire un barrito così forte che dalla sua bocca parte uno scatarro voluminoso che mi centra in pieno viso. Mi scappo un fuoribondo. Ma che cazzo? Il pubblico esplode in una risata incontenibile che dura un'eternità perché mi frugo in tasca ma non trovo il fazzoletto per pulirmi. Finalmente Eliana, che non ha ben capito cosa è accaduto, richiama l'elefante che si avvia dondolando verso l'uscita. Accorre mio padre, preoccupato perché mi bruciano gli occhi, continua a strizzarli e chiede in giro una bottiglia d'acqua che nessuno ha. Si precipitano da noi Giulia e Paolo che vedendomi con quella maschera disgustosa in faccia iniziano a ridere a crepa pelle. Finalmente accorrono due inservienti del circo. Mentre vengo portato via il pubblico applaude. Qualcuno grida, grande Carlo. Paolo e Giulia mi seguono correndo verso una roulotte dove potrò ripulirmi. Paolo ancora esilarato. Oggi mi hai fatto troppo ridere, sei stato bravissimo. Io protesto, bravissimo. Io rischio un'infezione e tu mi dici bravissimo. E Giulia dandomi l'ammazzata finale. Ha ragione Paolo, fai più ridere quando sei tu, quando non fai l'attore. Esplodo. Basta, mi avete rotto le scatole. Mentre torniamo a casa in macchina e io ho il viso tutto arrossato per la quantità di sapone e disinfettanti che ho usato per liberarmi di quella melma, ridono ancora. Mio padre cerca di contenersi ma non ci riesce granché bene. Episodio più imbarazzante non mi poteva capitare però mi rendo conto che malgrado tutto sono stato il momento clou dello spettacolo e finalmente posso dire di essere riuscito a far ridere i miei figli per la prima volta grazie ad un elefante e alla sua mira involontaria. Lo considero filosoficamente come un primo piccolo successo.